Claude A. Gégé è direttore di studi all'Ecole pratique des hautes études di Parigi. Ha compiuto ricerche in Africa, Oceania, Cina e nelle riserve indiali d'America. L'uomo di parole, tradotto nel 1989, suscitò in Francia un'ampia eco, sin dal suo apparire, perché sulla base di una rigorosa costruzione teorica, questo linguista militante dimostrava ai suoi lettori quanto poco conoscessero quella facoltà per alto familiare che è il linguaggio. Nel linguaggio informazioni e domande si organizzano secondo una specifica strategia. Molto viene esso d'innato, ma molto viene inconsapevolmente acquisito. Sappiamo tutti, o quasi, servirci passabilmente di una lingua, ma non sappiamo quali poteri essa ci attribuisce. Nostalgia dell'oralità Un enunciato scritto, staccato dalle condizioni naturali in cui dovrebbe essere preferito, dice Platone nel Fedro, 275e, da solo non può difenderci né aiutarsi, perché ha sempre bisogno che il padre gli venga in aiuto. Fragile immagine del discorso vivente animato. E nella lettera settima, Platone afferma che bisogna essere davvero poco seri per trattare problemi seri in forma scritta. La comunicazione orale, la sola naturale, è anche la sola carica di tutti i significati originali. Essa è multiplanare, come ben mostra un fenomeno capitale di cui nessun sistema di scrittura conosciuto conserva traccia, l'intonazione. Nell'antichità, non solo i drammatici, ma anche taluni filosofi avevano scorto chiaramente come, ad esempio, i testi latini, a meno di notare le curve intonazionali, potessero dar luogo a controsensi, come quando si scambia in un'interrogativa per un'affermativa o assurdità. Quintiliano e Sant'Agostino ne danno esempi edificanti. Spesso l'intonazione stratifica il discorso orale in una struttura gerarchica, in cui il messaggio principale è pronunciato sul registro diverso dagli incisi, eventualmente imbricati a loro volta gli uni negli altri. Una riproduzione grafica che, per quanto esatta per tutto il resto, non noti l'intonazione, può risultare quasi intellegibile, persino quando il discorso è perfettamente chiaro al suo emittente, non meno che ai suoi destinatari. L'esordio di un corso universitario dà, per esempio, in notazione scritta, «Dunque oggi, se volete, bene, io, ah, ecco, è un ponsel service, se volete, ho diverse cose da proporre, da una parte la mia idea sarebbe di tornare un po' sulle discussioni fatte l'anno scor, la scorsa volta». Così, per essenziale che sia nel destino dei uomini o della parte di loro che si riguarda, l'invenzione della scrittura ha contribuito a occultare l'esercizio vivente della parola. I pittogrammi, gli ideogrammi, i fonogrammi, i sillabari e i alfabeti restano proiezioni grafiche postume e insufficienti della gestualità articolatoria e delle semiotiche espressive come quella del viso. Ma in tante civiltà della parola, i movimenti della laringe e della bocca, sottese a loro volta dal ritmo respiratorio, si radicano profondamente nella memoria gestuale e diventano gli elementi costitutivi di uno stile orale. L'opera di Jus, così intitolata, ebbe un effetto esplosivo alla sua apparizione nel 1925. Un centinaio di articoli nella stampa dell'epoca e studi universitari ed ogni sorta fece eco, parlando di certe società sconosciute, a questa scoperta delle leggi che regono la parola proferita ritualmente. La nozione di stile orale va accuratamente distinta da quella di stile parlato, la quale designa l'uso ordinario, più o meno lontano dalla lingua scritta, fatto dalla parola in una situazione di interlocuzione. Lo stile orale è un vero e proprio genere letterario. Si tratta di una tradizione culturale nel cui nome si giustificherebbe la creazione di un termine, oratura, che diverrebbe simmetrico a quello di scrittura, intesa come letteratura, che spesso esclude la tradizione orale, certo non meno letteraria nel senso che conserva i monumenti di una cultura, non lasciando però dietro di sé una traccia materiale. Le civiltà che hanno coltivato o coltivano tuttora lo stile orale non si affidano necessariamente alla pura oralità. Contrariamente a quanto gli schemi occidentali ci abitano a credere, esse possono destinare l'elemento grafico a usi diversi da quello letterario. Analogamente, come si è visto, quando ha fatto la sua comparsa in Mesopotamia e in Egitto, la scrittura non era necessariamente associata all'impiego letterario. Come fenomeno legato a un certo tipo di scrittura sociale, essa era uno strumento di vita pratica, redazione di codici, di leggi e di contratti privati e pubblici, di vita economica, contabilità e di potere politico o religioso. I sumeri, sembra, riluttarono lungamente a usare la scrittura per scopi propriamente intellettuali. Solo parecchi secoli dopo la sua invenzione, comparvero saltoriamente su argilla dei testi letterali. Lo stile orale, dal suo canto, fa ricorsa a ogni sorta di procedimenti simbolici e gestuali e articolatori che gli assicurano una sorprendente efficacia mnemotecnica. Ritornelli, sillabe di apertura, parole di richiamo, nomi graffa, espressioni di suggerimento, profusione di quasi sinonimi, assonanze, rime, allitterazioni e altri echefonici e semantici, parallelismi lessicali-grammaticali, accoppiamenti di senso, scansione ritmata da gesti e movimenti della bocca. Il procedimento generale che copre queste manifestazioni è la ripetizione. Le tecniche della ripetizione perpetuano nella parola vivente i racconti etnografici, leggendari, storici, dei sciamani africani, dei profeti biblici, dei poeti tradizionali berberi e mai gasci, del Senegal e dei nuovi ebridi e di tutti i narratori del mondo, memoria degli uomini. Viene spesso citata la frase attribuita al maliano Heish-Hampat-Ba, in Africa, un vecchio che muore è una biblioteca che brucia, di Claude Gégé, l'uomo di parole, linguaggio e scienze umane, tradizione di Brioschi, editore in Audi, Torino, 1989. 1889.